Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. Flussi umidi meridionali favoriscono addensamenti di nubi basse sulla Liguria, in particolare sul centro Levante, con associate deboli piogge sparse più diffuse tra martedì sera e mercoledì. Meno interessato il ponente, dove prevagono nubi e schiarite, temperature in graduale aumento. Il dettaglio oggi, martedì 16 febbraio, molto nuvoloso coperto sul centro Levante con deboli piogge sparse, tendenti a divenire più diffuse dal pomeriggio. Inizialmente poco nuvoloso a Ponente, ma con nubi in aumento a partire dalle zone costiere, con possibili deboli piogge sul Savonese dal pomeriggio. Venti moderati o localmente forti meridionali, con raffiche fino a 50-60 km orari sui capi costieri di centro Ponente e sui rilievi di centro Levante. Mare in aumento fino a molto mosso in serata per onda corta da sud-ovest. Temperature massime in aumento lungo la costa tra 8 e 12 gradi nelle zone interne, intorno 7-8 gradi. Domani, mercoledì 17 febbraio, molto nuvoloso coperto sul centro Levante, con deboli piogge. Poco irregolarmente nuvoloso a Ponente, con maggiori addensamenti nell'interno dal pomeriggio. Possibili deboli piogge in serata sull'imperiese. Venti deboli o moderati meridionali al mattino dal pomeriggio, deboli o moderati meridionali sul centro Levante, deboli orientali a Ponente. Mare molto mosso al mattino sul centro Levante, mosso altrove, in calo ha mosso ovunque dal pomeriggio. Temperature minime in aumento lungo la costa intorno 7-8 gradi, nelle zone interne tra 1 e 4 gradi. Massime stazionarie lungo la costa tra 11 e 13 gradi, nelle zone interne tra 7 e 9 gradi. Dopodomani, giovedì 18 febbraio, molto nuvoloso coperto sul centro Ponente, con deboli piogge sparse, più probabili tra il Savonese e il Genovese. Maggiori schiarite sull'estremo Ponente. Inizialmente molto nuvoloso a Levante, tendenza a schiarite nel pomeriggio a partire dallo spezzino. Venti deboli o moderati meridionali. Mare mosso al mattino, incalo ha poco mosso dal pomeriggio a partire da Ponente. Temperature minime in aumento lungo la costa intorno a 9-10 gradi, nelle zone interne tra 4 e 6 gradi. Massime stazionarie lungo la costa tra 12 e 14 gradi, nelle zone interne intorno 8-9 gradi. È tutto, seguite i ragionamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal e sul profilo Instagram dell'agenzia. A risentirci!